padre stefano maria manelli la devozione alla madonna prefazione noi siamo più felici della madonna perché lei non ha avuto una santa vergine da amare questa uscita deliziosa di santa teresina di lisie non dovrebbe lasciarci indifferenti è talmente bella e sorprendente ci fa comprendere in un baleno d'incanto l'amore alla madonna ci fa capire in un attimo di quale felicità noi siamo privi senza la devozione alla madonna quel gran folle dell'immacolata che fu san massimiliano maria colbe diceva con trasporto miei cari figli se desiderate vivere e morire felici sforzatevi di approfondire l'amore filiale verso la nostra mammina celeste ed ecco lo scopo di questo libretto fare un po di luce sulla bellezza e preziosità della devozione alla madonna accendere un po di fuoco per amare la nostra dolce mamma suscitare un po di fervore nel limitare la vita e le virtù della tutta santa e tutto questo secondo gli insegnamenti e gli esempi dei nostri cari modelli i santi dio voglia che almeno qualche anima arrivi a comprendere il valore e l'importanza della devozione alla madonna un giorno un buon fratello chiese a san pio da pietrilcina padre cosa pensa lei della madonna rispose vale più che la teologia e la filosofia questa parola di san pio è l'eco di quelle parole dello spirito santo che la liturgia fa dire la madonna io abito nella sommità dei cieli e penetro nelle profondità degli abissi in riferimento al libro del siracide quale celeste immensità e il mistero di maria ma la madonna è nostra e di dio e dell'umanità e mamma di gesù ed è mamma nostra ecco tuo figlio dice l'evangelista giovanni la madonna non può non amarci la maternità e amore se san paolo provava l'ansia quotidiana e la sollecitudine per tutte le chiese quanto più la madonna che è la madre universale il santo curato d'ars arriva a dire che neppure in cielo la madonna può godersi in pace il paradiso perché è come una mamma che ha i figli fuori casa e ne attende il ritorno le sue preoccupazioni finiranno solo alla fine dei tempi quando l'ultimo figlio entrerà nella casa del padre ed ella finalmente attorniata dai figli potrà godersi in pace il paradiso ma noi come rispondiamo all'amore della celeste mamma vogliamo venerarla con gratitudine sentiamo di amarla come nostra madre ci sforziamo di somigliarle come veri figli ecco tua madre se la madonna è nostra mamma è chiaro che la pietà della chiesa verso la vergine maria è elemento intrisseco del culto cristiano e noi non possiamo essere cristiani senza essere mariani secondo la bella espressione del papa paolo sesto quanto più mariani dunque tanto più cristiani quanto più saremo della madonna tanto più saremo di gesù quanto più somiglieremo alla divina madre tanto più somiglieremo al nostro divino fratello gesù figlio della verginità di maria diceva sant'ambrogio questo diventare conformi a gesù in maria è il frutto genuino della devozione alla madonna come san giovanni evangelista accolse maria nella sua casa così si è dato a noi di accogliere la madonna nella dimora del nostro cuore se noi non abbiamo una vera devozione mariana con san francesco di sal dovremmo invocare spesso dio mio quando avremo la grazia che la santa vergine venga a nascere nel nostro cuore se invece abbiamo già la grazia della devozione alla madonna dobbiamo accrescerla con ogni studio e ogni sforzo perché dalla presenza viva della madonna nella nostra vita come nella vita di tutta la chiesa dipende la salvezza e la santificazione maria diceva san bernardo e tutta la ragione della nostra speranza così predicava anche san luigi maria grignon de montfort così insegnava pure sant'alfonso maria degli uori e di questo era ben convinto san giovanni bosco che in un suo celebre sogno vide la nave della chiesa stare salda e vittoriosa nella tempesta perché ancorata alle due incrollabili colonne l'eucaristia e l'immacolata la madonna ci salva la madonna ci dona la vita la madonna ci arricchisce di dio e la ci ripete con lo spirito santo chi trova me trova la vita e avrà la salvezza dal signore e ancora io ho tutte le ricchezze per arricchire quelli che mi amano secondo il libro dei proverbi non per niente san pio decimo per instaurare ogni cosa in cristo nella chiesa nel mondo propose come mezzo primario la devozione alla madonna amiamo la madonna quindi facciamo nostra l'ultima raccomandazione di san pio da pietrilcina amate la madonna e fatela amare recitate sempre il rosario amiamo la madonna senza dire mai basta animiamoci anzi a una santa gara per essere la generazione che più glorifica maria una volta san massimiliano maria colbe ricevette dai confratelli l'augurio di amare sempre più l'immacolata il santo rispose ringraziando e augurando a sua volta i confratelli che nell'amore alla madonna essi potessero superare lui mille volte e lui e lui poi superare loro un milione di volte ed essi ancora superare lui un miliardo di volte e così di seguito in nobile gara senza fermarsi mai ad ogni lettore di questo libretto noi vogliamo fare lo stesso augurio di san massimiliano maria colbe superare ogni traguardo nell'amore filiale alla nostra mammina cedeste